rosario crocette escluso dalla lista del pd nessuna sorpresa dice le che si presenta la regione su facebook sarà ugualmente nelle piazze siciliane col mio movimento megafono e l'unica candidata di vittoria alle politiche dal 4 marzo si tratta di rosetta noto funzionare del ministero di giustizia e candidata nelle liste di liberi uguali semina panico nel centro di spiega con l'auto lanciata a folle velocità arrestato dai carabin non fu meno di 25 anni e poi si scaglia contro un militare assestandogli un calcio la guardia di finanza se questo in un bar ha comiso quattro video poker illegali erano collegate abusivamente alla rete telematica il titolare multato per orte 30 mila euro anche vittoria c'era per il fine settimana il giorno della memoria protagonisti diverse scoloresche il www e tanti messaggi colori in bella vista durante l'evento rieccoci e benvenuto a un appuntamento con l'informazione su eventi sicilia ad aprile una nuova settimana sono giornate anzi ore calde sul fronte delle politiche in vista del prossimo 4 marzo stasera la si chiudono i giochi con la presentazione delle liste intanto fa rumore quanto dichiarato da l'ex governatore della sicilia rosario crocetta dice nessuna sorpresa per l'esclusione lo scrive sul facebook e annuncia anche che sarà ugualmente nelle piazze siciliane col movimento megafono per quello che ha definito la sua operazione verità nessun risentimento abbiamo scelto la politica per servizio e dunque nessuna sorpresa sulle liste pd perché andata come avevo previsto e non sarà certamente la vicenda delle candidature a farci rinunciare alla politica lo scrive su facebook l'ex fronte alla regione rosario crocetta che come noto non sarà candidata alle politiche del prossimo 4 marzo nel pd e ancora dice crocetta se alle regionali pd è riuscita a presentare le liste lo devo al fatto che mi sono ritirato il giorno prima della presentazione infatti mi chiamo renzi perché micari aveva deciso di non candidarsi se non si fossero ritirate le liste del megafono poi confluito in quell'arcipelago per senso di responsabilità dice nei confronti del partito mi sono quindi sacrificato e questo è il ringraziamento ma comunque me lo aspettavo intanto nelle liste dem per le politiche colta crocetta non saranno candidati né alla camera né al senato il presente al parco nebro di giuseppe antonci e nel senatore uscente che si presenta la commissione antimafia beppe lumia che era stato eletto la scorsa legislatura nel megafono crocetta fa anche sapere che fare a campagna elettorale per spiegare chi sono i candidati nelle liste dei democratici con l'ex governatore che parla di scelte calate dall'alto e che non hanno coinvolto gli organismi regionali del pd è l'unica candidata di vittoria le politiche si tratta della dottoressa rosetta notto candidata alla cosiddetta società civile con liberi e uguali l'abbiamo incontrata per conoscerla e ovviamente capire anche le motivazioni della sua scelta mentre questa sera si chiudono i giochi con la presentazione ufficiale delle liste in vista delle politiche in provincia tra sorprese rifiuti e depurazioni eccellenti spunto una novità al femminile unica e sola in questo caso a vittoria si tratta di rosetta noto candidata nelle file di liberi uguali di fatto esponente alla cosiddetta società civile essendo funzionaria giuridica pedagogista presso il ministero della giustizia dipartimento penitenziario il suo anche un impegno in missione all'estero in nord africa oltre che è presente il gruppo insieme contro il diabete io sono per i valori della sinistra valori della sinistra che ultimamente come vediamo ma non soltanto nel nostro territorio ma in tutta Italia non sono sicuramente portati avanti abbiamo una sinistra un centro sinistra che porta avanti altri ideali ideali dei poteri forti e gli ideali delle assicurazioni delle banche noi dobbiamo portare avanti come sinistra come liberi uguali con pietro grasso sicuramente quelli che sono i bisogni di tutti e non di pochi l'agricoltura scusa nel nostro territorio è sempre la priorità da portare avanti certo l'agricoltura è la prima cosa che noi dobbiamo sostenere come liberi uguali perché come noi sappiamo tutti il nostro è un territorio a tradizione agricola che oggi sta vivendo una sofferenza incredibile i nostri agricoltori non sono più in grado di sostenere le spese di produzione perché c'è sicuramente un metodo deviato di commercializzazione non è possibile che i nostri agricoltori vendano a 20 centesimi e poi in tutto il giro di filiera alla grande distribuzione troviamo 3 euro 4 euro al chilo il nostro territorio sta morendo la nostra agricoltura è veramente in ginocchio bisogna intervenire e io anzi dico una cosa che tutti noi cittadini dobbiamo mobilitarci tutti quanto oggi si vendono a 20 centesimi prodotti e non si possono vendere ci vuole una mobilitazione generale io sarò la prima a farlo se gli agricoltori saranno con me a cronaca ispico rumeno 25 anni semina il panico con l'auto lanciata a tutta velocità poi è stato bloccato dai carabinieri arrestato nella sua folle corsa ha battuto dei paletti metallici poi ha preso anche a calcio un militare semina il panico in centro a ispico allora i carabinieri lo arrestano si tratta di un rumeno di 25 anni sorini yonut zoltan gravato da precedente per violenza resistenza pubblico ufficiale lesioni personali l'uomo a bordo di un'auto non rendendosi conto di quanto poteva accadere con la velocità che aveva impressa al mezzo anche ha battuto alcuni paletti metallici presenti ai lati della strada i militari intervenuti non hanno trovato nella piazza il veicolo ma le ricerche serrate hanno permesso di individuare l'uomo carabinieri che quindi hanno preceduto alle contestazioni amministrative in quanto il mezzo era sprovvisto di assicurazione col rumeno che inizialmente si sedeva sul cofano tentando di interrompere l'attività dei militari e ascoltando anche l'intimazione a scendere al veicolo per firmare i verbali redatti sferrava un calcio ad un militare rumeno veniva quindi arrestato in flagranza col militare che se l'accaverà con alcuni giorni di prognosi dopo le formalità di rito il rumeno è stato accompagnato agli arresti domiciliari a disposizione dell'autorità giudiziaria a ragusa invece la polizia smaschere arresto un lato seriale di autovetture 30 anni pluri pregiudicato tradito dall'immagine alla videosorveglianza nonostante si fosse travisato il volto per non farsi riconoscere è stata alla fine catturato dagli uomini dell'ufficio volante la questura l'autore di una serie di furti su auto in sosta avvenute nei giorni scorsi a ragusa e che avevano destato un certo allarme sociale l'uomo girando per la città andava alla ricerca di borse o borselle lasciate in custodite all'interno dell'auto in sosta individuato il mezzo iniziava a mettere in atto l'azione furtiva cercando di non dare nell'occhio e attresa il momento giusto iniziava a forzare un finestrino alla portiera del mezzo per poter trafugare gli oggetti di valore presente nel suo interno nei colpi il giovane al fine di non farsi riconoscere si copriva parzialmente il viso con un copy capo acquisita le immagini analizzate le denunce gli agenti hanno però nonostante il parziale d'avvisamento riconosciuto senza ombra di dubbio l'autore dei fatti un ragusano di 30 anni pluripeggiudicato anche per fatti la stessa specie l'identificazione è stata anche confermata un testimone che riconosceva lo stesso soggetto che giorni prima aveva visto trafugare la borsa della moglie dalla sua auto per poi darsi a precipitosa fuga adesso l'uomo dovrà rispondere di furti aggravato e continuato sempre a proposito di furti maraguse i carabinieri hanno denunciato un rumeno di 29 anni a seguito di perquisizione domicilare infatti gli hanno hanno trovato all'interno della sua abitazione vari oggetti di furto inoltre durante sempre questi controlli è stato individuato un locale dove l'uomo teneva custoditi altro materiale oggetto dei colpi messi a segno negli ultimi giorni la guerra di finanza sequestra in un bar a comiso quattro video poker erano nascosti allontani da sguardi indiscreti al titolare del bar una multa di oltre 30.000 euro le fiamme gialle del comando provinciale di ragusa setta sinergia con gli operatori dell'agenzia delle dogane dei monopoli hanno sottoposto a sequestro pasto video poker installati in un bar di comiso nell'ambito dell'attività contrasta all'illegalità l'abusivismo nel settore di gioche scommesse in particolare i finanzieri della compagnia di vittoria allertati dalle numerose telefonate al numero di pubblica utilità 117 al momento dell'accesso nei locali hanno rinvenuto nascoste lontane da sguardi indiscreti questo lost machine non collegata alla rete telematica dell'amministrazione finanziaria e questo ovviamente per evitare il monitoraggio reale delle giocate effettuate al titolare del bar con presenti specifici sono state quindi contestate sanzioni amministrative per oltre 30.000 euro che saranno irrogate dall'agenzia dogane monopoli all'indomani del caso dell'agenzia di viaggi data le fiamme raguse in via roma è il caso che l'amministrazione comunale si dia una mossa e convogli con urgenza il tavolo che dovrebbe servire a risolvere queste problematiche lo afferma dal momento territorio dicono torniamo a ribadire che nel centro storico superiore c'è qualcosa che non funziona il sindaco quindi l'obbligo morale e alla luce di quanto accaduto di riunire il tavolo e di fare in modo che lo stesso possa occuparsi anche delle tematiche concernente un ordine pubblico che purtroppo in questa parte della città continuano ad essere molto serie lo scioglimento del consiglio comunale di acate continua a tenere banco tra addetti a lavori e non e in queste ore prende posizione il sindaco raffo attaccato e criticato da più parti e soprattutto dal movimento 5 stelle ad acata l'argomento del giorno sia lo scioglimento del consiglio comunale e a prendere posizione in quest'ora il sindaco franco raffo in replica le recenti dichiarazioni del movimento 5 stelle improvvisamente dice raffo ci siamo ritrovati col commissario regionale che ha già preso tutti i poteri del consiglio ma sono enormi ormai i danni provocati da un'assise dove si è assistito solo ad acite e velenosi dibattiti a gratuito offese e negli ultimi due anni con consiglieri quasi sempre assenti a sedute deserti e penosi rinvii da parte nostra continua ancora raffo continueremo a lavorare come sempre fino all'ultimo giorno nella buona e nella cattiva sorte anche perché poi ci sono degli appuntamenti importanti che ci attendono e raffo parla dell'approvazione del prg dell'acqua della diga col potabilizzatore ormai in funzione della soluzione del problema rifiuti dell'efficientamento energetico e ancora di depuratore progetto fognatore per non parlare di messa in sicurezza delle scuole asfalto di alte strade e inaugurazione del parco di villa garibaldi obiettivo conclude il sindaco e migliorare i servizi tagliare i costi e le tasse e consentire a tutti di non pagare non c'è quindi alternativa e poi ai cittadini l'ardo a sentenza le tematiche della sanità in provincia e la riunione ragusa del nuovo comitato pro apertura del nuovo ospedale si chiede la riapertura appunto del giovanni paolo secondo e poi si parla anche dell'iscrizione al gruppo facebook arrivato già a quota 4.500 nonostante qualche difficoltà dovuta alla viabilità non sempre scorrevole nelle zone periferiche di ragusa è risultata molto partecipata il mattina alla prima uscita del comitato per l'apertura del nuovo ospedale numerose infatti le persone che si sono strette intorno al candidato sindaco pepe calabrese e che sostengono per spingere a aprire la struttura abbiamo eletto sottolinea calabrese il direttivo del comitato e già da oggi lo riuniremo per programmare le iniziative non ci fermeremo fino all'apertura del sito e con un ospedale civile dichiarato danno inagibile la popolazione iblea non può più attendere non stiamo parlando della strada ragusa catana che ancora non esiste ma vogliamo aprire una struttura pronta e chi deve decidere lo faccia forse qualcuno teme che la sanità ragusana diventi un ambito di eccellenza scapito di alta realtà si chiede calabrese e poi dice ho lanciato questo comitato da cittadino e non da politico e ci adopereremo affinché lo stesso possa proseguire la propria attività come una guida civica poi a breve incontreremo anche il manager dell'asp il prefetto e il procuratore della repubblica e creeremo un momento di civile protesta ma chiediamo conto e ragione di tutto perché sono ben 165 la di sono finora registrata anche per l'acquisto di magliette simbolo necessaria alla protesta poi calabrese lancia di nuovo una per la descriversa al gruppo facebook che è stato denominato comitato pro avvertura nuovo ospedale e che si è già quota 4500 di iscrizione ricorrenze si è celebrato nel fine settimana anche a vittoria il giorno della memoria protagoniste molte scolaresche cittadine soprattutto il vvf per lanciare un messaggio per l'inclusione all'impegno sociale suggestiva e partecipata vittoria la manifestazione promossa dalle scuole cittadine dal vvf per il giorno della memoria seminiamo memoria raccogliamo futuro questo è il titolo dell'evento che ha per la prima volta visto diverse scuole cittadine unite nel lanciare un messaggio comune allo spirito dell'inclusione dell'impegno e il costo delle grazie ancora una volta si è colorato disegni e messaggi che appesi in uno scenografico intreccio di fili sapientemente installati dal visionario est artistico di arturo barbante hanno riempiti in un suggestivo calidoscopio di emozione lo spazio aperto protagonisti gli alunni dai piccoli della primaria più grande liceo passando per i ragazzi delle medie tutti insieme per far sbocciare un mondo migliore hanno preso parte all'evento anche dando lustre prestigio all'iniziativa l'assessore alla cultura alfredo vinci guerra e presenta il consiglio comunale andrea nicosia la preside vaccarello la preside riolo la preside barrera la professoressa campanella presenta l'associazione per andare oltre e molti insegnanti e genitori la manifestazione dedicata in particolare a torino sanzone presente al wwf recentemente scomparso calcio in eccellenza le big vincono tutte a capolista messina passa di misura giarre mentre e biancavilla con tiragusa sant'agata conto a pistunina vincono di goleada pronostici rispettati in eccellenza sia in testa che in coda la capolista città di messina seppur con un uomo in meno per un'ora riesce a passare a giarre grazie al gol di codagnoni in avvio un successo che permette alla capolista di tenere a distanza le inseguitici biancavilla e sant'agata entrambe vittoriose di goleada proprio il biancavilla ha fatto il bello e cattivo tempo a ragusa 4 a 1 il punteggio con una tripletta dello scatenato randes netto il divario tecnico fra le due squadre con gli azzurri che hanno tenuto a testa rivali fino alla mezz'ora poi si è scatenato l'attaccante teneo e per gli iblei è stata nottefonda iblei che hanno anche cercato di rientrare in partita col 3 a 1 di zangare ma nel finale parisa ha chiuso i conti situazione quindi sempre più critica per la formazione di raciti che può consolarsi vedendo il bicchiere mezzo pieno con le sconfitte di relaci ad rani atletico catania quest'ultimo subissato da ben 14 reti ad opera del camaro sempre in coda deciso il colpo di rena del caltaginone sull'avola 3 a 0 con i calatini di polessi che si staccano dalla zona retrocessione e possono guardare esso con più serenità al proseguo della stagione momento critico invece per la passalacqua che cade a venezia e dice addio di fatto al secondo posto match giocata a corrente alternate con le ragusane vicine a raggiungere le avversarie che poi nel finale hanno preso decisamente il largo la passalacqua cade a venezia e dice addio al secondo posto un'altra brutta sconfitta dunque dopo quella di girone in europa per la passalacqua che nulla ha potuto sul parquet dell'umana re venezia crollando col punteggio finale di 80 61 e dicendo di fatto addio al secondo posto in classifica un match quello di ieri giocata a corrente alternata dalla formazione di recupido che più volte si è avvicinata all'avversario ma crollando subito dopo ogni proprio errore o ogni canesto delle locali alla fine il passivo così come quello subito in spagna è sicuramente pesante ma ci sarà da rialzarsi subito alla vigilia di un'altra settimana dalle più difficili dato che formiche e compagni sono attese dal doppio impegno casalingo prima con il ritorno di oro cup con girona mercoledì 31 gennaio alle 20 a 30 e poi dall'impegno di campionato con schio sabato 3 febbraio sempre alla stessa ora insomma certamente due o tre clienti non certo più facili da affrontare in questo momento anche se la squadra è imparata a stupire amare il commento dallo stesso recupido a fine gara sicuramente una brutta partita ha commentato il tecnico ci siamo avvicinate arrivando anche sul meno 5 palle in mano ma poi abbiamo commesso errori banali che ci hanno ricacciati indietro subendo break ogni errore nostro e questo è certamente sintomo di mancanza di energie mentali e purtroppo la seconda partita che non giochiamo benissimo rimarca ancora il recupido loro hanno avuto grandi percentuali non abbiamo difeso bene in queste due partite e 80 punti dice recupido subiti sono certamente troppi diciamo che in questo periodo non ce ne va bene una intanto in vista del match di mercoledì 31 la società ha fissato in 5 euro il biglietto unico sia per il statuare blu che per quello giallo momento di fermarci a dopo eventisicilia.tv il quotidiano online ipparino che ti informa con notizie in tempo reale e video sui principali fatti della provincia di ragusa eventisicilia.tv l'informazione più veloce e sempre aggiornata siamo all'epilogo dei fatti in primo piano Rosario Crocetta escluso dalle liste del PD nessuna sorpresa dice l'ex presenta alla regione su facebook sarò ugualmente nelle piazze siciliane col mio movimento megafono nessun risentimento dice l'ex governatore per chi come a me ha scelto la politica per servizio e non sarà certamente questa esclusione a farmi ritirare e poi annuncia quella che sarà la sua operazione verità è l'unica candidata di vittoria alle politiche dal 4 marzo si data di Rosetta Noto funzionare del ministero di giustizia e è candidata nelle liste di liberi uguali intanto stasera si chiudono i giochi della presentazione delle liste in provincia non mancano sorprese e depurazioni eccellenti la vittoria alla novità di Rosetta Noto unica sola che ha candidata la cosiddetta società civile semina panico nel centro di spiga con l'auto lanciata a folle velocità arrestato dai carabili un ruveno di 25 anni e poi si scaglia contro un militare assestandogli un calcio durante la folle corsa abbattuta anche paletti metallici posta ai lati della strada il mezzo era privo di assicurazione e per disturbare l'attività dei militari l'uomo si era seduto sul cofono come sfida e provocazione la guardia di finanza sequesta in un bar e accomi su quattro video poker illegali erano collegate abusivamente alla rete telematica e il titolare è multato per oltre 30.000 euro ad intervenire i finanzieri di vittoria allertate diverse telefonate nell'ambito dell'attività a contrasto all'illegalità e all'abusivismo nel settore di gioche scommesse il bar è tra l'altro vicino ad alcune scuole anche vittoria celebra nel fine settimana il giorno della memoria protagonisti diverse scoloresche il WWF tanti messaggi colori in bella vista durante l'evento titolo della manifestazione seminiamo memoria e raccogliamo futuro chiaro messaggio a favore di inclusione e impegno sociale l'evento dedicato quest'anno a Tonino Sansono del WWF recentemente scomparso con il repilogo è tutto grazie per l'attenzione e appuntamento alle prossime edizioni grazie a tutti grazie a tutti